Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, oggi proviamo la videocamera da 12 megapixel del Yashi QS5 che ci è giunto in redazione da pochissimi giorni la videocamera abbiamo detto essere una 13 megapixel e la registrazione avviene in full HD come vedete qui vi è la possibilità anche di mettere a fuoco durante la registrazione proviamo anche un pan veloce contro luce ovviamente nell'interfaccia di questa fotocamera è anche possibile zoomare mentre stiamo registrando fino a 4x e vedete la qualità a parte la stabilizzazione che non è delle migliori la qualità non non perde moltissimo anche se comunque vedete che fatica un po' nella messa a fuoco